musica 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 60 frame andiamo subito, andiamo in fattoria subito, subito, andiamo giù in fattoria diretti ah, mettono dopo, non prendo il cazzo veramente, non prendo in fattoria diretta, il primo che trovo li uccido, vai infatti uccido tutti, veramente, mi sono ritortato tutti qua, li spato addosso, mi vengo addosso, eh non c'è tanta gente, anzi, è ben poco no, poco no, potrebbe essere molto peggio, vedi? dove andiamo alla casa? parta qua non ti isolo, prendi, prendi, prendi tu beh, figurati treietto del cazzo, non è che chi apriva la prima cassa ah, c'è un pompa qua, c'è un pompa giù, ho aperto la porta a dire con il percorso, a sinistra c'è pompa ma c'è niente, in fatto ti pompa, porcodina quindi si, si, andiamo si, andiamo un giudasso c'è un arve, no, 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 voglio voglio andare sul tetto e spararli dal tetto, ma diocanete se lo pompa, non voglio spare al tetto, cazzo vai, porcodio, appena, solo pompi pompi, nari non c'è tutto il punto mi tenti c'è vero tu metti un altro altro 4 mi voglio mettere quest'anno aspetta occhio perché c'è gente per spaccare cose così ecco lì ma si tutta la vita ma le vanno dove andato? eccoli vinto non lo so di gioco è così Si, 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 si no no non so se dov'è l'altro non lo vedo l'ho ucciso quello però non so dov'è beh minchia è ah dalla capanna l'ho visto no si saltando in testa ma vaffanculo però parole dio voglia e ma è qua è qua quarto pezzo di merda ecco bravo coglione di merda sii ma non ho parole dio canco un colpo mi ha ucciso è un colpo gli ho dato un colpo si va un si va lui con un l'assalto ho saltato ma preso in testa ma non ho avuto sii dici colpi che cazzo parole dio canco vabbè sono morti tutti qui io schifo non è possibile però un po' più parole però è veramente vado me lo ho mi piace non provo le conizioni scuola di parola stile intorno l'invento c'è un tesoro di anche a morire per me roma giro mi aspetta aspetta secondo me quando non ho controllato tutto l'intero aspetta ma che arriva la cosa auspiciarmi lo so ma qui un po' distante il bambino o lo scudo cazzo vedete se la sotto c'è il tesoro forse c'è non sono andati da sotto no qui qui sembra che hanno preso spediamo qua no forse non c'è ma no c'è 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 ma figurati la merda aspetta si si andiamo aspetta aspetta dai muoviti sto correndo più veloce che posso non è che c'è una pozione per me no eh che 60 frame però eh no c'è c'è un blocco eh c'è un blocco c'era ma che cazzo fa, c'è niente, c'è niente, c'è niente, sto gioco qui c'è la casa, quella lì devo prendere l'aer drop oh, eccoli qua, 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 sud, sud, sono costruiti preso eh no ma fanculo merdo umana, dio, mi ero toccato, no cechina oh, c'è la pulisucco qua, eh, me lo dai, me lo aspetta bello bello il pompo blu vuoi tu dai mio, il pompo blu eh, ce n'è un altro ah, no, prendi se vuoi ah, già ce l'hai? no, no, è un pompo verde hai detto, lo vuoi tu quello blu eh, ma scusa, se ne hai due, si no, dico, lo vuole prendere tu, ti scemo vabbè non so che dove cazzo stava guardando quello, minchia ho ucciso io il nitro, eh lo so, ma perché stavo sparando a me però stavo sparando eh, c'è cazzo, ma no, sparato a merda, no eh, ma l'inizio è sparata a me perché poi hai sparato tutto, sparato dopo te perché ho ucciso quel primo, no l'hanno danneggia, ah, ho capito che cosa è quella barra, quella è la barra della vita comunque del drop, la vedi? perché tu se spari al pallone, lui scoppia e cade a terra e si apre direttamente subito, lo sapevi su sta cosa? ehm, me l'hanno prende, se loro sono andata eh, loro possono, se mette un tempo ducite, allora ma era vicino, era, se si mette un tempo ducite, eh mi sparate quel ducite, eh non penso che se lo aspetta, non è se ci andiamo subito eh, come stanno sparando infatti da lì, sono loro, mi sa da dove? eh, da dove sono il drop, doverà no, no, via 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 via, scappa, scappa da qui non dovrebbero vederci da qua, aspetta andiamo dall'altra parte ma perché stiamo qua? eh, perché ci va da scudo sto cosa, no scappa, no, eh lo so, eh ma perché così non ci vedono, non ci sparano da dietro, almeno c'è il coso che ci ripara, il magazzino qua, no, non ci vedono ciao ciao si spara nel culo quelli, no che nel culo, no hai visto che mi hanno sparato, hai visto che mi hanno sparato eh, hai visto che mi hanno sparato ma arriviamo alla ala safe e poi li ammazziamo dopo, no, possiamo fare eh, qua sono le munizioni eh, qua c'è ancora qualcuno eh, non è che abbiamo tanto tempo eh qua c'è ancora qualcuno eh, qua mi sa che eh, non mi sa che eh, qua mi sa che poi la ha avuto eh eh, vedi Ah, l'ho preso tutto, guarda, è un pietra qua. Eh, appunto. Tu sei? Ma perché stai andando di là, Dioca? Eh, che ne so, è stato correndo e basta. Oh, siamo in venti, eh. Eh, non ci si dice mai di correre per a... Qui? 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 Qui che ha preso fuori qui, forse... No, invece si... No, aspetta, forse si, invece. Eh, non si, si. Non lo troppo strano... Eh, munizioni... Sei tu... No, mi incomincio ad abitare tre ore, qua, tutto... dove vai? ma dove cazzo sta andando? che ne so dove andare scudo dove dove mandare? eccomi nooo non gridare poi che gridi sempre cazzo devi sempre rimproverare ma porca p***a tutto tu, tutto tu, prendi tu tu hai preso, cazzo dici ma va non ha preso niente cosa che ho preso io ho detto quel pompa blu mi ha detto no lo tu il verde è uguale no non è uguale vabbè... ho siamo già incinto delle cose andiamo al ponte benfiga... ci sparano c'è qualcosa di blu o almeno prendi l'anno tu sei proprio voglio avete trovato lo stesso minaccia cazzo no 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 punizioni a bella che se ne frega o ci parecchiamo poco quattro un cinto che vuoi fare non è in due minuti e amobili a me mi vedono di quattro se non c'entrò cosa vuoi fare ma ci sono un altro punto quattro po' min 8 cento colpi di ecco grazie al cazzo eccoli eccoli li vedo li vedo da un gioco testo intanto 285 il pubblico non un'altra direttamente almeno non lo so eccoli 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 di piste no non cazzo eccolo Speriamo? No, dov'è? Qua, stanno qua accanto Dov'è? Qua, lo vedi che hanno creato? Qui, dal mio lato, dal mio lato Dai, spara, spara Dov'è? E' uno battuto Vabbè, ci vienzo io L'altro? Battuto No, prendi i 2kitti, dai E' uno scar Dammi cercherò cosa a mermere No, no, no Pulisucco, pulisucco Ma c'è un'altra che stanno arrivando Pulisucco, prendi tu Ma ce n'è un'altra, no, una l'ho presa io Pugliatele tu, l'altra Eh, mi stanno arrivando però Stanno arrivando da dove? C'è un tesoro, eh? Ma ce sta, le tesoro, ci abbiamo roba Eh, insomma, non tanto Non ne ho tante munizioni, eh Vabbè, non costa niente prenderlo qua, eh Oh Oh, sei tu che cammini? Sì, lo prendiamo sto tesoro, no Ma quale è? Ma no, cosa me ne frega del tesoro? Ma è qua vicino, non ci costa niente a prenderlo Ma dove minch'è? Ah, è sotto forse Ma tu l'avevi... Ma sei tu che corre Ma tu l'avevi visti a questi qua, l'avevi visti Ma basta correre come un... Ma se sei tu che stai correndo Tu non ti disenti i tuoi passi, grazie al cazzo Anch'io non mi sento i miei, eh Non vuol dire però che... O io prendo il tesoro, qua, se vaffa Ma che troviamo lo scartato No, sono sette Eh, no Eh, ho capito, ma... Dove stanno? Ma tu li avevi visti a questi qua che abbiamo appena ucciso? Erano questi quelli che dicevi tu prima? No, altri che ho visto Non è che l'ho visti io, allora Io ho capito, ma fatemi vedere Eh, beh Eh, perché tu non... Ma a meno che ci sentivi bene con le cose Tu, quel volume aumentato Mi stavo guardando da altre parti Non sento dietro, via cazzo Ma si sentiva, i suoni li senti, i suoni Ma se continui a parlare, no che non sento Eh, vabbè, sempre a coppone Non è una buona scusa, eh, però C'è il bolt Ma c'è uno che adesso Possiamo andare verso il pallone lì se vuoi, eh Andiamo, andiamo Andiamo per forza, dobbiamo spostarci Aspetta, aspetta, perché? Che c'è? Oh, sbricati però No, no, andiamo in ultima Eh, vabbè Ancora non arriva più nessuno di questo lato Non è che io dico Non sono in sette, tanto sono tutti messi tutto l'altro lato sono Ma mi piglio questo, qua, ragazzi, no, non lo piglio, affacco Andiamo avanti un po' Aspetta, controllate, c'è qualcuno qua sotto, no Ci potrebbe essere uno nascosto nei cespugli Qua, qua, qua Costruiamo? Dov'è? Te l'ho detto nei cespugli Lo sapevo, te l'ho detto nei cespugli, cazzo Me lo avevo sbattuto contro Me lo immaginavo, me lo stavo immaginando Per questo te l'ho detto Non è scarviola qua, eh Eh, dammelo, cazzo Mi è potuto ricaricare sta arma di merda, allora Eh, quanti colpi aveva sto coglione Ma no, io c'ho il metallo, no Ah, bella, no Ah, vabbè, l'ho quasi preso Era fermo Era fermo, quasi Non ci credo Tanto non mi ha visto Siamo in sei Lo stai animando, lo stai animando Porco Ma che cazzo stai sparando Ma no, ne ho colpi di oca No, 300 No, lo ha rianimato C'era uno che stava rianimando Uno, l'ho mancato Eh, ma ora quelli Oh Dobbiamo spostarci anche noi, eh Ma quelli che erano lì indietro Dove stanno? C'erano quelli che lì indietro Sono morti, allora Oh, in due sono Ah, stanno lì Vieni, vieni, vieni Vieni un drop Aspetta, aspetta Dio, Kama cos'è ucciso, eh Dio, Kama cos'è ucciso Eccolo Copri, copri Preso uno È morto Uno, uno, è rimasto uno solo Indietro, gara Ma che cazzo prendi il drop Eh, si, c'è lancia i granati adesso, gatto Oh, guarda dove può essere Sto coglione, gara Eccolo Dov'è? Dov'è? Oddio, dov'è Dietro la casa, qua, qua, qua Oh, ma questo è ucciso Ma non muore, ma porco Uccidila Dio, Kama l'ho ucciso Sì, quanta vita c'hai, porco Qu'è? Allora